una buonissima serata a tutti voi come sempre ben ritrovati anche in un giorno di festa Angoli è qui con voi allora vi ricordo subito come tutte le sere il nostro indirizzo di posta potete restare in contatto con la nostra redazione inviando la solita mail ad angolichiocciola espansionetv.it allora inizia un nuovo mese e quindi c'è lui Franco Copes ciao Franco ciao Dolores e buonasera a tutti gli ascoltatori allora sono bravo ci aspettiamo delle grandi cose per questo mese che io adoro il mese di novembre secondo me è bellissimo perché ci porta poi a dicembre a quel mese insomma dove dove tu potrai già progettare per quel famoso 6 gennaio esatto quindi mi porto molto avanti ti porti già avanti certo iniziamo bene stasera Franco è molto molto bene allora io non t'ho ancora dato nessun titolo quindi per me sei sempre la mia principessa meno male allora un nuovo mese i 12 segni grandi aspettative solo cose belle mi raccomando già abbiamo avuto in questo periodo dei disastri quindi vediamo difficili il maltempo ha messo alla prova davvero tutta l'Italia ma non solo l'Italia stanno soffrendo infatti e quindi siamo vicini a tutti lo ricordiamo grazie Franco per averci dato questa possibilità detto questo direi di partire direi di partire con il cancro ah subito da me saltiamo tutti gli altri andiamo? no no andiamo in fila come si deve partiamo dall'Ariete allora cari Arieti vivete pure questo mese di novembre con molta serenità e con molta tranquillità perché per questo mese di novembre per voi dell'Ariete ci saranno delle grosse grosse opportunità sotto tutti gli aspetti valutare molto bene alcune proposte professionali ma per molti arieti della seconda decade il periodo è ottimo per progettare il matrimonio devo dire che come avevo annunciato il mese scorso l'ultima frase la do agli studenti molti studenti dell'Ariete devono studiare un po' di più perché sono un po' indietro con con il programma di studio quindi ecco non perdete tempo poi si fa più fatica quindi recuperate però devo dire che recupererete qualche piccola lacuna datevi da fare non lasciate troppo troppo spazio insomma bene questo l'Ariete arriva il toro cari toro cosa dire questo mese di novembre per voi sarà un mese dove vi sentirete a vostro agio tutto quello che programmerete andrà a buon a buon fine l'unica cosa che dovete valutare e stare molto attenti nel periodo centrale di questo mese di novembre la sfera sentimentale che potrebbe crearvi qualche problema di incomprensione con la persona amata ai ai le incomprensioni insomma sì ottimo periodo invece per tutti gli studenti e per coloro che devono sostenere degli esami per rinnovo patente o per fare la patente quindi con successo potranno portare a termine questi questi percorsi bene siamo ai gemelli allora cari gemelli cosa dire per voi l'essere riflettivi per questo mese di novembre è la parola d'ordine quindi cercate di essere veramente solidali tranquilli e di valutare tutto quello che vi verrà proposto per molti gemelli della prima della terza decade questo mese di novembre si potranno affacciarsi delle nuove possibilità o cambio lavoro o addirittura un miglioramento nel proprio settore delle scelte importanti scelte importanti fine anno insomma un'accelerazione esatto per voi studenti cercate di essere meno pignoli e di non esagerare con lo studio quindi questi studiano troppo rispetto invece alla riete che è rimasto un po indietro bisogna un po compensare e a questo punto non puoi tirarti indietro perché c'è il cancro allora cari cancri mese di novembre veramente eccezionale devo dire che devo devo forse ripetermi ma io voglio non essere quello che anche se ognuno dei segni può avere delle problematiche può avere dei problemi non voglio fare quello che lo dice però per voi del cancro questo mese di novembre è un mese in cui dovete fare molta attenzione a quello che farete perché ci sono delle cose che devono essere portate a termine per esempio chi ha un progetto di lavoro chi ha voglia di cambiare casa chi sta per divorziare perché ci sono in questo periodo di novembre per molti del cancro e in questo caso devo dire specialmente quelli della seconda decade che stanno per affrontare questo problema sarà un mese molto difficile perché ci saranno le problematiche coi propri figli e coi propri partner ottimo invece il periodo per quanto riguarda lo studio devo dire che è positivo questo è in generale per te preparati per me per te e questo è il suo personale preparati perché probabilmente il prossimo anno condurrai una trasmissione di successo beh angoli si ma un'altra trasmissione un'altra ma che bello fatti fatti tuoi esatto dove tu sarai l'ospite d'onore sempre molto bene allora a questo punto direi è il momento di parlare sono bravo con te sei un tesoro sono sempre genio sempre gentile direi che è arrivato il momento di occuparci del leone per voi del leone mese in cui è opportuno anticipare le mosse perché per voi del leone questo mese potrebbero essere le finanze a crearvi qualche problema però siccome siete agguerriti come sempre riuscirete a portare a termine degli impegni dove avevate paura di non riuscire bene la sfera sentimentale dove molti leoni troveranno forse l'accordo per un matrimonio e le copie già collaudate vivranno dei momenti sereni né per quanto riguarda gli studenti quindi gli studenti che tornano sempre a chiusura di ogni segno vedo che davvero hanno fasi alternanti ho voluto come avevamo annunciato il mese scorso proprio alla fine di ogni segno di dare un qualcosa agli studenti che riguardi anche loro bene siamo alla Vergine allora cari voi della Vergine mese di novembre purtroppo è un gioco con le parole temporali 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 ne abbiamo avuti veramente tanti effettivi mentre per voi saranno temporali specialmente nella sfera affettiva quindi valutate se vale la pena litigare per poi rifare pace o se l'amore che provate per il vostro partner care voi della Vergine sia un amore sincero ma un amore fasullo quindi mi raccomando siate coerenti con... mentre invece per voi della Vergine ottimo periodo professionale però noto che in questa prima carrellata dei segni ben più di uno ha un mese un po' particolare esatto per i sentimenti se la sfera lavorativa è abbastanza protetta diciamo così dei giovani accende appunto un faro particolare i sentimenti sembrano essere tutti un po' burrascosi diciamo che tu hai detto che per te il mese di novembre è un mese bello che ti porta a gennaio mentre purtroppo devo dire che sotto l'aspetto di come li preparo io il mese di novembre è un mese di valutazione si sta programmando veramente il finale di dicembre quello che è successo tutto l'anno e il novembre c'è la riflessione per poi avere il mese di dicembre le conclusioni di come è stato il 2018 ma allora è proprio vero quando si arriva alla fine dell'anno effettivamente si tirano un po' le somme di tutto quello che è accaduto esatto esatto mentre devo dire per voi cari studenti valutate il prossimo anno la facoltà o dove vorreste proseguire quindi una prospettiva una prospettiva positiva su quello che sarà il futuro siamo alla bilancia esatto cari voi della bilancia sarà una situazione favorevole veramente sotto tutti i punti di vista questa volta devo dire che sia in amore che nell'ambito professionale voi della bilancia che siete quelli che pesano le cose ma nel vero senso della parola sarà un mese decisamente fortunato ma la fortuna non va cercata arriverà tranquillamente per molti della bilancia addirittura ci saranno delle entrate economiche che non vi aspettavate ottimo periodo anche per gli studenti io direi che fino ad ora davvero la bilancia è probabilmente il segno che ha un mese di no ce ne sono che vedrà in questa prima fase se non altro il mese che vedrà il segno che vedrà un mese più sereno rispetto agli altri prima di fermarci per la pausa brevissima e poi ovviamente ritornare con tutti gli altri segni allora abbiamo fatto un po' un punto sul fatto che la fine dell'anno in realtà corrisponde a un momento nel quale così si tirano un po' le somme di quello che si è fatto è giusto anche già spingersi con qualche programma con qualche progetto sul futuro? io sono pienamente d'accordo che l'arrivo di novembre di dicembre dicembre poi diciamo i primi 15 giorni sono giorni frenetici cosa regalo cosa preparo festa di Natale festa di Capodanno mentre invece io sono fermamente convinto che il mese di novembre è il mese del rilassamento psicofisico proprio uno deve pensare 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 e poi la conclusione del 2018 che sia quello positivo perché per tanti sarà positivo per tanti sarà positivo in parte negativo in altri settori però arrivare al 31 dicembre buttare dalla finestra la moglie o il marito il marito certo è un diciamo è un qualcosa di arrivare a fine anno e aver detto io in questo 2018 ho fatto questo 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 ed ho valutato questo 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 secondo me è una cosa positiva e allora iniziamo a riflettere c'è una brevissima pausa poi ritornate assolutamente con noi perché ci sono tutti gli altri segni ed eccoci di nuovo insieme rinunciabile io comunque è sempre un piacere venire venire qui poco fa una vostra segretaria mi ha detto ma è già qui ancora? e io ho detto e beh una volta al mese vola il tempo vola il tempo era un mese fa che ti avevo visto vabbè e ti sarò mancata per questo sei tornato subito perché c'è un nuovo mese ci sono come sempre delle previsioni interessanti nella prima parte abbiamo davvero snocciolato un buon numero di segni zodiacali ma ora riprendiamo con quelli che mancano siamo allo scorpione che tra l'altro è il segno principe nel mese di novembre esatto direi che le decisioni che dovete prendere voi dello scorpione saranno quelle che potranno ecco come già anticipato prima portarvi a prendere delle o fare delle conclusioni per un buon auspicio del 2019 che se me lo permetti lo scorpione è uno dei segni fortunati del 2019 ah quindi già ci stai anticipando qualche segreto esatto qui lo diciamo e chiudiamo però devo dire che per molti voi dello scorpione specialmente prima e terza decade dovete ricominciare a sorridere ma sorridere perché avete avuto mesi difficili mesi dove avete potuto gioire non gioire e fare progetti questo mese di novembre vi porta a molta riflessione e a molte cose positive né per gli studenti però ahiai ecco insomma perché ci sono molti studenti che probabilmente sono alla loro prima cotta o alle loro prime storie d'amore un po' contrastate quindi giusto essere innamorati ma pensate allo studio quindi non distraetevi dallo studio che rimane sempre il vostro obiettivo ho fatto lei per tutti gli anni del io ero bravissima scuola non è vero perché ho parlato con una maestra e mi ha detto che eri la più indisciplinata è come no è certo e per tua gioia ora siamo al sagittario che non a caso è il mio ascendente quindi allora cari sagittario ma sai io ho un debole per il sagittario anche perché ho una figlia del sagittario quindi devo dire che per voi del sagittario le decisioni che prenderete in questo mese di novembre saranno quelle che vi faranno capire gli sbagli o le cose positive che avete fatto in tutti i mesi passati ci saranno delle evoluzioni e per molti voi del sagittario potrebbero essere delle valutazioni per un cambio lavoro o addirittura avere una nuova mansione cioè nel senso che adesso io scherzosamente a te ho detto che farai un nuovo programma eccetera però per quanto ti riguarda diciamo nel tuo ascendente ci sono delle novità che dovrai valutare però io lo dico a te per dirlo anche a molti ascoltatori perché anche per loro ci saranno delle grosse opportunità e quindi riflettiamo cerchiamo di trovare tu poi non rifletti mai ma va bene così guarda non ti invito più fa niente direi ottimo invece per gli studenti bene questo mi fa soprattutto piacere siamo al capricorno allora capricorno devo dire che il capricorno il mese di dicembre avrà un sì scusate il mese di novembre avrà un mese positivissimo ho anticipato anche il mese di dicembre per il capricorno sarà novembre dicembre due mesi veramente eccezionali e qui permettemi di fare un augurio a mio genero che tra qualche giorno viene farà una piccola operazione e che tutto vada in bocca al lupo da parte di tutti noi però per voi del capricorno col passare dei giorni riuscirete a ottenere quello che non avete ottenuto nei mesi passati e specialmente nei mesi estivi avrete delle opportunità molto molto vantaggiose e devo dire che la fine dell'anno vi porterà un incremento economico quindi una bella zampata di fine anno sì esatto bello buon periodo per chi deve sostenere esami per quanto riguarda il capricorno bene siamo all'acquario cosa diciamo di questo segno? cari acquari qui devo dire che siete in un periodo in cui qualcosa non va qualcosa va siete accerchiati da mille mille impegni e quindi a volte trascurate la vostra salute e qui devo dire a una persona a noi cara tranquilla che non c'è nessun malanno quindi vai serena e per voi dell'acquario devo anche sgridarvi perché quando avete qualcosa non andate dal medico non dovete correre ma prevenire è meglio che curare bravo Franco allora lanciamo anche questo messaggio ricordiamoci sempre la prevenzione in ogni caso è importantissima ottimo periodo per gli studenti e ripeto e chi deve sostenere delle operazioni bene siamo all'ultimo segno siamo ai pesci allora cari pesciolini hai tirato un sospiro perché devo dire che finalmente il segno dei pesci per questo mese di novembre porteranno a termine cose che non pensavano di portare a termine quindi sia professionalmente che sentimentalmente e che anche economicamente potranno finalmente dire ce l'abbiamo fatta in realtà avevi ragione buona parte dei segni dei 12 segni in questo mese di novembre comunque concretizzano dei buoni risultati esatto periodo tra alti e basse invece per gli studenti studiate un po' di più quindi il consiglio per tutti gli studenti è di applicarsi e chi è alle prime cotte o chi vive un primo amore vivetelo ma sempre pensando allo studio che è la cosa più importante soprattutto alla vostra età detto questo Franco sai che insomma ovviamente i 12 mesi i 12 segni per il mese che sta per iniziare ovviamente richiedono la tua attenzione ma è sempre interessante parlare anche un pochino di gossip di quello che accade in questi giorni cosa mi vuoi chiedere in questi giorni uno fra i tanti programmi molto seguiti sto parlando del grande fratello Vip dove stanno accadendo fra le tante cose situazioni che davvero sono un po' sotto l'attenzione di tutti proprio qualche sera fa lunedì l'eliminato è stato Elia Elia Fongaro che all'interno della casa ha intrecciato una relazione forse una simpatia non lo sappiamo effettivamente come potrà o come potrebbe evolvere la domanda è cosa pensi io penso che sia falso relazioni che si intrecciano in un minimondo perché in realtà quello è io direi che se ti ricordi ne parlammo della sorella di Belen che pensavamo invece sembra che la storia stia decollando e addirittura arriveranno al matrimonio mentre ti devo dire che forse qui una diversità c'è a vent'anni meno di lei quindi sono tanti e parliamoci chiaro lei ha un figlio fuori in età adesenziale che richiede molta attenzione sicuramente la starà seguendo seguendo io devo dire che secondo me lei è l'innamorata no anche se lui ha fatto delle dichiarazioni che insomma io non avrei mai fatto e poi ripeto ognuno di noi è libero di io ho una donna fuori che mi protegge cioè non è non è non è non è il caso devo dire che essendo stato un ex velino perché tu sai che è stato un ex velino si è montato un po' la testa quindi la situazione insomma non ti piace moltissimo no non mi piace moltissimo poi posso dire una cosa ognuno faccio gli auguri che sia un grande amore e tra l'altro su questo grande amore c'è stato e l'hai citata la sorella di Belen un come dire un'attenzione particolare da parte di un altro dei protagonisti della casa del grande la Silvia fratello Vip certo però anche Francesco Monte che l'anno scorso fu diretto interessato proprio nell'osservare dal di fuori l'innamoramento insomma l'inizio dell'innamoramento della sua ancora forse fidanzata con un altro esatto ma devo dire che Francesco Monte non lo vuole ammettere ma è ancora innamorato di perché la severità delle sue parole su questa situazione invece attuale fanno un po' pensare e altro davvero poi ci dobbiamo purtroppo salutare ma già altro colpo di scena o comunque un altro momento che ha fatto molto discutere è stato invece è stato l'ingresso di Fabrizio Corona all'interno della casa per un chiarimento anche lui con una fidanzata politica di no però insomma se fossi stato lì avrei abbracciato Silvia perché è stata veramente eccezionale lui sa il fatto suo sa i suoi problemi tutto quello che vuoi è un ragazzo insomma che può piacere non piacere ma è molto chiaro nel suo modo di essere non ha fili però probabilmente secondo me io non sarei entrato in una casa del grande fratello per chiarire o per dire determinate cose se è entrato e dice tu non puoi sapere quello che mi è successo tu non puoi sapere è al diciamo alla merce di tutti quindi e poi secondo me è stata bravissima Ilari Biasi che lo ha azzittito e ha mandato la pubblicità anche perché 12-13 anni fa lui ci ha marciato con lei a sua volta aveva avuto modo insomma di essere poco soddisfatta del suo comportamento lui è fatto così ma lei è stata veramente eccezionale e devo dire che c'è stato un momento dell'abbraccio che secondo me io pensavo che cedesse e invece è stata forte e lo ha respinto è stata una piccola grande donna assolutamente questo ci è piaciuto no 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 non è una piccola io devo dire piccola di statura ma una grande donna una grande donna assolutamente quindi siamo concordi sugli ultimi accadimenti del grande fratello che ho avuto piacere di ripercorrere con te Franco siamo davvero le battute conclusive non possiamo stare qui ancora un po' no perché il nostro tempo a disposizione è davvero terminato io ti ringrazio come sempre per le belle cose che viene a raccontarci e ci vediamo il mese prossimo assolutamente sì grazie per essere stato grazie a tutti e naturalmente continuate a seguire Angoli tutte le sere accidenti che bellissima pubblicità grazie anche a voi rimanete però sulla nostra rete perché come ogni sera tra poco c'è l'informazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti